È stato pubblicato sul sito internet della Presidenza regionale l'elenco aggiornato ad agosto 2016 con i nomi degli ex consiglieri regionali che beneficiano del vitalizio. Si va dai 5.000 euro al mese di chi ha lavorato per più anni e 2.000 di chi è stato in consiglio per una sola legislatura. Il compenso si cumula con pensioni, stipendi, vitalizi erogati dal Parlamento e quant'altro. Elevati inoltre apparirebbero anche secondo i commenti postati su Facebook agli articoli pubblicati in riferimento e compensi per i dirigenti regionali. Secondo quanto diffuso dai ben informati in pole position ci sarebbe Marinella D'Innocenzo. Spese e costi elevati dunque quelli documentati mentre il Molise continua a vivere con le sue vertenze che attanagliano in primis il settore della sanità ma anche quello del lavoro. Con aziende e filiere completamente sbandierate, numerosi cassa integrati e giovani che non vedono possibilità di crescita e futuro nella regione ma soprattutto non nutrono speranza nelle istituzioni. A tal proposito dal 2017 entrate ed uscite degli enti locali dovranno essere documentate. Con l'approvazione delle nuove norme sul pareggio di bilancio di regioni ed enti locali vengono riscritti vincoli di finanza pubblica contenuti nella legge 243 del 2012. La riforma fissa così il conseguimento di un saldo non negativo.